coronavirus a palermo positivo un carabiniere tornato da una vacanza in trentino alto adige coronavirus via libera 20.000 assunzioni nella sanità e allo stop delle udienze prometteva sconti errate sulle cartelle sattoriali arrestato una funzionaria di riscossione sicilia ben trovati alla seconda edizione di media news di sabato 7 marzo in apertura un caso di coronavirus a palermo si tratta di un carabiniere tornato da una vacanza in trentino alto adige si trova in rianimazione all'ospedale civico i colleghi che hanno lavorato con lui sono in quarantena vediamo nuovo caso di coronavirus a palermo si tratta di un carabiniere del comando provinciale che si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale civico perché risultato positivo il militare è tornato da una vacanza in trentino alto adige lo scorso 24 febbraio transitando dall'aeroporto di verona la conferma è arrivata dal comando provinciale il carabiniere è rientrato al lavoro per qualche giorno poi ha cominciato ad avere sintomi influenzali e si è messo in auto quarantena poi la situazione si è aggravata ed è stato necessario il ricovero in ospedale in terapia intensiva è stato eseguito il tampone che ha confermato l'infezione da coronavirus i colleghi che hanno lavorato con lui si trovano in quarantena si stanno eseguendo le operazioni di sanificazione dei locali del comando provinciale nuovo caso di coronavirus anche a messina si tratta di un uomo anziano che si trova nella sua abitazione del risultato positivo al tampone all'ospedale papardo la notizia è stata confermata dal direttore sanitario dell'ospedale mario paino salgono dunque a due i casi di coronavirus nella provincia di messina uno riguardo un vigile del fuoco di sant'agate di militello che ieri è risultato positivo i tamponi saranno inviati a catania per una ulteriore verifica e successivamente a roma arancine cannoli offerte dalle guide turistiche abilitate di palermo e da un bar della città sono stati recapitati all'hotel dove un gruppo di turisti bergamaschi e la loro capogruppo sono in quarantena dal 25 febbraio scorso dopo che alcuni di loro sono risultati positivi al coronavirus un gesto di solidarietà per gli ospiti della struttura intanto non mancano le preoccupazioni per i lavoratori del settore turistico sì la collega che si trova dentro l'hotel in quarantena è esattamente il simbolo di tutte noi perché come guide turistiche diciamo abbiamo questa controindicazione siamo accoglienti siamo affettuosi facciamo di tutto per far sentire le persone a casa quindi inevitabilmente stiamo a stretto contatto con loro e il contagio è facilissimo queste misure restrittive ovviamente legate ad un clima di emergenza giustificatissime hanno comportato per noi guide turistiche proprio l'assenza di turisti l'SOS è partito dalla nostra collega che sul gruppo delle guide ha chiesto collaborazione ai colleghi per svolgere piccole commissioni perché giustamente si ritrova in questo stato di clausura e quindi le cose più semplici poi diventano più complicate c'è una preoccupazione per voi del settore turistico in che modo vi state preparando anche tutelando noi stiamo avendo soltanto cancellazioni 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 e purtroppo una perdita di reddito secco e la nostra attività dopo il letargo invernale si risveglia appunto in in primavera e le nostre giornate di lavoro le nostre committenze sono come sono merce deperibile fino al 4 aprile tutte le gite scolastiche sono state annullate alle gite scolastiche seguiranno le vacanze pasquali quindi se ci sarà una ripresa e questa verrà soltanto dopo dopo le vacanze pasquali quindi già siamo a metà aprile noi cosa chiediamo intanto uno slittamento di quelle che sono quelle che sono i termini i termini fiscali e contributivi perché sono stati sono stati postargati fino al 30 aprile ma noi come lavoratori autonomi questi siamo a partita iva sistema forfettario e la nostra prossima contribuzione è giorno 16 maggio 16 maggio quindi non ci tutela il decreto emanato dal dal presidente del consiglio dei ministri e ascoltiamo adesso il video messaggio di ringraziamento della guida turistica a capo del gruppo di bergamaschi in quarantena dal 25 febbraio in un hotel del centro di palermo il nostro gruppo è stato colpito da coronavirus e siamo in quarantena presso l'hotel mercur da diversi giorni anzi ormai quasi da 15 giorni la vita qui in quarantena non non è facile perché restare chiusi in una stanza senza praticamente incontrare persone perché non non c'è consentito se non in pochi minuti a grande distanza uno dall'altra con mascherine protezione eccetera quindi dicevo vivere in questa situazione non è semplice però ci siamo adattati di buon grado alla cosa anche perché abbiamo avuto una grande solidarietà da parte dei palermitani che non hanno fatto mancare l'occasione davvero di dimostrarci l'affetto e la vicinanza malgrado in fondo fossimo venuti a portare davvero un po' di scompiglio di pericolo in città devo dire che le autorità sanitarie sono state molto efficienti e quindi il rischio di contagio almeno da parte nostra è stato assolutamente escluso colgo l'occasione di questa possibile incontro virtuale con con voi con chi mi ascolta per ringraziare quindi tutte le persone che ci hanno aiutato e ringrazio in primo luogo maria grazia sclafani e tutto il gruppo delle guide turistiche di palermo ho avuto contatto con loro grazie alla collega anch'essa guida turistica chiara gambirasio che è con me in quarantena ringrazio molto davvero per aver pensato noi e poi ringrazio tutte le altre persone che ci hanno fatto avere libri giornali cibo naturalmente e soprattutto ci hanno fatto sentire vicinanza che è la cosa più importante mi auguro di tornare presto con altri gruppi con altre persone quando tutto questo sarà finito per me la sicilia continuerà ad essere un luogo caro amato e conosciuto ancora coronavirus la federazione italiana regionale scuole materne dichiara lo stato di crisi in seguito all'emergenza epidemiologica da covid 19 e chiede l'estensione delle misure economiche di supporto alle piccole e medie imprese già messe in campo per le zone rosse la federazione italiana scuole materne associazione di categoria a cui aderiscono oltre 500 scuole siciliane che con 25 mila bambini e 3.500 dipendenti svolgono un servizio pubblico educativo dichiara a seguito dell'emergenza sanitaria da covid 19 lo stato di crisi al settore delle scuole paritarie e chiede l'estensione delle misure economiche di supporto alle piccole e medie imprese già messe in campo per le zone rosse il sistema nazionale di istruzione con esso le scuole paritarie sta subendo un pesante aggravio che non può essere riversato sulle famiglie né sui dipendenti che lavorano nelle scuole la federazione ritiene indispensabile che alle scuole vengano estesi gli interventi specifici che verranno messi in campo per tutte le attività produttive estendendo anche gli ammortizzatori sociali non solo nelle zone rosse ma in tutte le aree che sono state coinvolte l'eccezionalità dell'evento e la rilevanza delle determinazioni assunte attraverso il decreto legge le ordinanze regionali scritte in una nota ci portano a considerare con preoccupazione la sospensione di tutte le attività scolastiche ed educative speriamo vivamente che il governo regionale proceda ad avviare in tempi brevi tavoli sociali di confronto specifici intervenendo con azioni concrete a sostegno delle famiglie e delle scuole apprendiamo che l'assessore regionale all'istruzione roberto lagalla ha manifestato con divisione delle preoccupazioni e la disponibilità con partecipata con la presidenza della regione e gli assessorati regionali all'economia alle attività produttive al lavoro a fornire supporto per il superamento delle negative ricadute economico produttive derivanti dall'attuale contingenza sanitaria e per prevenire possibili conseguenze critiche sull'occupazione e sulla funzionalità complessiva del sistema regionale dell'istruzione lavorando affinché possano essere ricompresi interventi a sostegno del comparto scuola. Ancora coronavirus, 20.000 assunzioni nella sanità e allo stop delle udienze. Lo stabilisce il nuovo decreto del Consiglio dei Ministri e spunta anche la possibilità di requisire alberghi per trasformarli in ospedale. Il governo nazionale anticipa parte delle nuove misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus e approva un nuovo decreto dopo un Consiglio dei Ministri durato tre ore. Una delle parti più importanti del provvedimento riguarda le misure per la sanità e per la giustizia. Si prevede infatti il rinvio di udienze per i rati meno gravi fino a fine maggio per tutelare chi lavora nelle procure e nei tribunali ed un piano di emergenza nella sanità che consentirà assunzioni di 20.000 tra medici, infermieri e operatori con la possibilità affidata alla protezione civile di requisire materiali sanitari e strutture per far fronte a carenze di materiale o posti letto. Nel provvedimento vengono accorpate quindi sia le restrizioni per gli uffici giudiziari che scatteranno a partire dal 23 marzo dopo 15 giorni di sospensione feriale, sia quelle per mandare rinforzi nelle corsie degli ospedali in prima linea per contrastare l'emergenza. Per potenziare i reparti di terapia intensiva inoltre sono in arrivo 5.000 impianti di ventilazione assistita che saranno acquistati dalla protezione civile attraverso la Consip con procedure rapide semplificate. Salta invece rispetto alle prime bozze la possibilità per lo Stato di commissariare le regioni inadempienti rispetto alle nuove misure. Anche altri paesi dovrebbero guardare all'esperienza italiana e prepararsi, potrebbero esserci situazioni simili in Europa presto. Queste le parole del commissario europeo alla gestione della crisi che aggiunge la situazione varia a livello geografico e le misure devono essere proporzionate alla luce della situazione specifica a cui si riferiscono. Al momento l'Italia è il paese più colpito dall'epidemia tra tutti gli stati membri e sta adottando misure specifiche. Queste misure, conclude, devono essere viste e analizzate alla luce della situazione alla quale si riferiscono che in questo caso è seria in alcune zone dell'Italia. Ospedale Civico di Palermo, emergenza coronavirus, necessario potenziare le strutture sanitarie attraverso l'utilizzo del personale qualificato. Chiesto lo scorrimento delle graduatorie per utilizzare il personale OS. La carenza del personale qui al Civico, oggi l'incontro con i vertici aziendali mi pare che si è capitalizzato un bel traguardo. Sì, era necessario fare chiarezza sui criteri di utilizzo del personale OS all'interno della graduatoria fatta dal Civico. In questo momento così particolare, tra l'altro legato al coronavirus, mi sembrava che fosse necessario poter utilizzare le risorse nel modo più razionale possibile. Ci sono tanti operatori che hanno partecipato a quell'avviso e sono finiti in graduatoria positivamente, quindi noi chiedevamo che effettivamente questa graduatoria potesse scorrere. c'è stato l'impegno del direttore a fare un ulteriore scorrimento in questa direzione. Auspichiamo che anche le altre direzioni sanitarie e delle strutture ospedaliere possano attingere alla stessa graduatoria in modo da poter garantire ai cittadini la sicurezza di un servizio sanitario che deve essere efficiente e soprattutto che deve farlo in un periodo così delicato. Ci sono buone notizie oggi. Sì, 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 buone notizie. Finalmente, grazie all'onorevole Figuccia, c'è stato un incontro con Roberto Colletti, ovvero il dirigente del Civico dell'Arnas dell'ospedale dei Bambini e finalmente ci sarà uno scorrimento di questa graduatoria partita IVA che è stata un bando fatto appunto dal Civico nel 2017, in cui c'era stato un blocco da due anni, non capivamo il motivo. Insomma, finalmente siamo riusciti in questo intento. È quello che avete sempre chiesto, di fatto, uno scorrimento della graduatoria. La graduatoria, sì. Speriamo bene, ringraziamo l'onorevole Figuccia e speriamo anche gli altri ospedali attingeranno da questa graduatoria. A quanto pare, finalmente, dopo due anni di chiusura totale, finalmente c'è stata una riapertura. È quello che noi in cui speravamo. Chiudiamo questa lunga pagina dedicata all'emergenza coronavirus. Passiamo alla cronaca. Prometteva sconti errate sulle cartelle sattoriali. Arrestata una funzionaria di riscossione Sicilia. Renata Sciortino era già stata sospesa dal servizio, ma avrebbe continuato la sua attività illegale. Sette le vittime. I soldi che le consegnavano finivano nelle scommesse online. I finanziari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno notificato a Renata Sciortino, classe 79 di Palermo, dipendente di riscossione Sicilia, la misura cautelare degli arresti domiciliari. La misura è stata disposta come aggravamento di una precedente misura interdittiva, cioè la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici per un anno, eseguita lo scorso mese di febbraio dalle fiamme gialle palermitane, unitamente ad un sequestro preventivo di oltre 163 mila euro, quali profitto di peculato e autorriciclaggio. Le indagini svolte dagli specialisti del gruppo tutela spesa pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno consentito di accertare che l'indagata, addetta alla gestione delle istanze di rateizzazione e rottamazione delle cartelle sattoriali presso lente di riscossione, tra il 2017 e il 2019 si era fatta consegnare da vari contribuenti ingenti somme di denaro, con la promessa di poter accedere a procedure particolarmente agevolate per la trattazione delle relative pratiche. Una volta ottenuti i pagamenti per lo più incontanti, ovvero a mezzo ricariche di poste pay, l'indagata si è però appropriata delle cospicue somme, senza effettuare alcun versamento per la gestione delle posizioni debitori e dei contribuenti irraggirati. Parte delle somme sono state utilizzate per la ricarica di conti di gioco e scommessi online, per cui è scattata anche la denuncia di autorriciclaggio. A seguito degli ulteriori riscontri eseguiti dai finanzieri allo Stato, sono state individuate sette persone raggirate dalla funzionaria infedele e il profitto dei reati ipotizzati è salita oltre 200.000 euro. Inoltre è stato accertato che, dopo la notifica del provvedimento di sequestro disposto dal PM lo scorso mese di febbraio e la sospensione dal servizio, l'indagata ha reiterato analoghe condotte fraudolente, fissando appuntamenti con persone che si erano in passato rivolte a lei per avviare pratiche per rottamazione di cartelle sattoriali. Le indagini continuano per verificare il coinvolgimento di ulteriori contribuenti in buona fede nelle condotte delittuose della donna. A Palermo l'acqua è potabile. Ieri un pomeriggio di psicosi acqua. Sono arrivati in nottata gli esami dell'ASP ed è stata revocata l'ordinanza con la quale era disposto il divieto dell'utilizzo dell'acqua a fini umani in molte zone della città, servite dall'azienda municipalizzata dopo alcune analisi del 25 febbraio da parte dell'ASP. Una vicenda paradossale a Palermo che si sviluppa ieri pomeriggio quando un comunicato urgente dell'AMAP, ripreso dopo pochi minuti alla protezione civile, diffonde la notizia che l'acqua in una larga area della città non era né potabile né utilizzabile per fini igienici. Da qua il panico tra la popolazione già in preallarme per le notizie sulla diffusione del coronavirus. Conseguenza immediata l'assalto ai supermercati per rifornimenti di scorte d'acqua delle zone interessate all'ordinanza. Dopo poche ore però arriva la smentita e l'olucorlando. L'acqua è potabile ma a seguito della diffusione di un comunicato stampo incompleto da parte dell'AMAP circa l'emissione di un'ordinanza sindacale relativa alla presunta inindonità per uso umano dell'acqua distribuita in ampia parte della città. Il sindaco chiarisce che la firma dell'ordinanza è un atto dovuto di fronte a una nota formale inviata dall'ASPA all'amministrazione comunale ma tutti i dati relativi alla qualità dell'acqua distribuita in città ne confermò la potabilità e la qualità per uso umano. Tutto sembra nato quando, affermano dalla segretaria del sindaco, in data 25 febbraio, i tecnici dell'ASPA hanno infatti eseguito alcuni prelievi in uscita dai serbatoi Petrazi, che alimentano con altri la rete idrica e la città. Da tali analisi, cui risultati sono stati trasmessi ad AMAP il 28 febbraio, sono risultate alcune presenze superiori a quelle consentite per solfati e alluminio e altri agenti inquinanti. AMAP si è immediatamente attivata per la verifica dell'usabilità dell'acqua per uso umano, anche con interventi di maggiore clorazione, monitorando costantemente fino al 5 marzo e lungo tutta la rete di distribuzione interessata alla qualità dell'acqua. Da tutti gli esami eseguiti, in tutti i punti di presa e per tutti i giorni verificati, risulta che non vi è alcun problema di carattere microbiologico dell'acqua distribuita in rete. Specialmente in una situazione di già grave nervosismo, legato alla situazione sanitaria del Paese, dichiara il sindaco Lolo Corlando, è auspicabile che da parte di tutti vi sia la massima collaborazione per non alimentare psicosi di alcun genere. L'AMAP controlla l'acqua distribuita in rete ogni singolo giorno, cosa che non avviene per tanti altri soggetti che vendono acqua presunta potabile. Sono certo che nessuno in AMAP si sognerebbe mai di distribuire acqua non di qualità. E in merito al presunto caso di non potabilità dell'acqua in buona parte del territorio di Palermo, interviene Feder Consumatori, che definisce la vicenda sconcertante. La gestione della comunicazione istituzionale in merito al presunto caso di non potabilità dell'acqua in buona parte del territorio di Palermo, alla quale abbiamo assistito nelle scorse ore, può essere definita con un solo aggettivo, sconcertante. Feder Consumatori Sicilia prende atto dell'enorme confusione generata nei utenti del servizio idrico a causa di un evidente conflitto tra quanto scritto dall'amministrazione comunale di Palermo nell'ordinanza sindacale di ieri e quanto successivamente smentito dalla stessa amministrazione, quanto comunicato dall'AMAP in un primo tempo, quanto comunicato dall'AMAP in un secondo tempo e ciliegina sulla torta quanto si legge sul sito della protezione civile di Palermo. A poco, dal punto di vista della comunicazione, scrive ancora Feder Consumatori in una nota, è servito il via libera dell'ASP di Palermo all'uso dell'acqua, arrivato quasi a mezzanotte di ieri. Questa mattina centinaia di migliaia di palermitani si sono svegliati non sapendo neanche se si potevano lavare i denti. È una vicenda paradossale, afferma il responsabile di Feder Consumatori Palermo, Lillo Vizzini, che mette in luce la grande superficialità con la quale è stata gestita questa situazione. Siamo felici di sapere dall'ASP e non dagli altri attori coinvolti in questa amara commedia che oggi possiamo usare l'acqua anche per scopi alimentari, ma avremmo gradito saperlo già ieri e da una sola univoca, chiara e coerente comunicazione istituzionale. Ci sembra assurdo, aggiunge il presidente di Feder Consumatori Sicilia, Alfio Larosa, che nel 2020 ancora i enti, gli uffici e le aziende pubbliche coinvolte in questioni che hanno a che fare con la salute pubblica non riescano a parlare con una sola voce ai cittadini. Sarebbe bastato un giro di telefonate per uscire con un solo comunicato stampa ed evitare l'incredibile battibecco tra comune e Amap al quale migliaia di cittadini hanno assistito, mentre cercavano di capire se potevano bere l'acqua del rubinetto. Erosione. La regione si dota di un piano per proteggere le coste. Entro quattro mesi si metterà a punto una strategia complessiva per intervenire su tutti quei tratti costieri maggiormente aggrediti dalle mareggiate e che presentano un sensibile arretramento. A redigere il piano regionale contro l'erosione costiera voluta dal Presidente Nello Musume ci sarà l'ufficio del commissario di governo contro il dissesto idrogeologico guidato dallo stesso governatore siciliano. La struttura, diretta da Maurizio Croce, che potrà adottare come parametro di riferimento le linee guida nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e degli effetti climatici, sarà chiamata a operare un monitoraggio a tappeto delle coste dell'isola per individuare priorità e tipologia degli strumenti da adottare. Dovrà essere, spiega il Presidente Musumeci, un piano operativo a tutti gli effetti che ci consenta di agire velocemente e con la massima efficacia. Dopo aver messo a punto il contratto di costa per la zona del Messinese, già entrato nella sua fase realizzativa, occorre pensare a una grande operazione di risanamento di tutti i litorali della Sicilia, che dopo il Veneto è la regione con la più alta urbanizzazione a rischio proprio per la presenza di una densa popolazione lungo le coste delle sue più grandi città. Rimuovere le cause dell'erosione marine e ripristinare le condizioni naturali necessarie anzitutto per questioni di sicurezza, ma comporta anche la salvaguardia dell'economia e dei territori rivieraschi, obiettivo di flussi turistici proprio grazie alle loro spiagge che in molti casi vedono ridurre la loro superficie anno dopo anno. Per la prossima settimana negli uffici della struttura commissaria dell'antidissesto è stata convocata una prima riunione per mettere mano al piano. Entro quattro mesi si dovrà infatti adottare una strategia complessiva per intervenire su tutti quei tratti costieri maggiormente aggrediti dalle mareggiate che presentano un sensibile arretramento. Alla presenza dei familiari delle vittime è stata inaugurata a Palermo nei Saroni dell'Associazione Siciliana della Stampa una targa dedicata agli otto giornalisti uccisi dalla mafia in Sicilia. L'iniziativa è stata promossa dal gruppo siciliano dell'Unione Cronisti. Una targa dedicata agli otto giornalisti uccisi dalla mafia in Sicilia nella sede dell'Associazione Siciliana di Palermo. L'iniziativa che è stata promossa dal gruppo siciliano dell'Unione Cronisti, gruppo di specializzazione della FNSI a Sostampa, si è svolta la presenza dei familiari delle vittime. La targa è stata dedicata a Mauro Rostagno, ucciso nel 1988 alle porte di Trapani, a Giuseppe Alfano, assassinato nel 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto, a Cosimo Cristina, ucciso a Termini Merese nel 1960, a Mauro De Mauro, sequestrato e ucciso a Palermo nel 1970, a Pippo Fava, ucciso a Catania nel 1984, a Mario Francese, assassinato a Palermo nel 1979, a Peppino Impastato, torturato e brutalmente ucciso a Cinisi nel 1978 e a Giovanni Spampinato, assassinato a Ragusa nel 1972. Erano presenti Giulio Francese, Franca De Mauro, Mimma Barbaro Alfano, Sonia e Francesco Alfano e Francesca Andreozzi, nipote di Fava e presidente della fondazione intestata al giornalista e scrittore di Palazzolo a Creide. Hanno partecipato alla cerimonia, tra gli altri, il presidente regionale dell'Asso Stampa, Alberto Cicero, consigliere regionali dell'Asso Stampa e dell'Ordine dei giornalisti e i componenti del Consiglio Direttivo Regionale dell'Unione Cronisti. A nome della città di Palermo è intervenuto l'assessore comunale alle attività produttive, Leopoldo Pianpiano. Un'ulteriore tappa sul versante della memoria che vede l'Unione Cronisti, il gruppo siciliano, al centro di un percorso che è iniziato circa vent'anni fa. Stiamo pensando di ricordare i nostri caduti o coloro che sono stati uccisi in Sicilia per mano mafiosa perché Mauro Rostagno muore in Sicilia ma era originario del Piemonte. Trova la morte in terra di Sicilia, lui che credeva in una società civile sana e priva di mafia. Oggi è il 6 marzo, Mauro Rostagno nasce il 6 marzo. Non è stata casuale la scelta di questa data. Dunque un'ulteriore tappa che ci vede all'interno dell'Asso Stampa regionale ma che ci vede impegnati adesso con la giornata della memoria che avrà un altro taglio per la quale noi spenderemo energie per ricordare i nostri caduti. La memoria è il primo atto di giustizia per le famiglie specialmente per quelli che non hanno ottenuto ancora verità e giustizia. Per esempio penso alla signora De Mauro. E quindi anche per ricordare a noi stessi l'esempio e il valore di questi colleghi che hanno creduto fino in fondo nella professione appunto da perdere la vita e che in un momento di grande difficoltà per la stampa costituiscono veramente un punto di riferimento professionale ma anche morale. Anche per oggi è tutto. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News.